mister colomo la reggiana perde i rigori in quella classica lotteria come si suol dire in questi casi una partita insomma che avete giocato molto bene possiamo dire un po di rammarico per la superiorità numerica che non avete sfruttato forse nel migliore dei modi assolutamente sì credo che la partita sia viaggiata più o meno come all'andata nel senso che la primo tempo mi ha sembrato molto più reattivo più presente il bassano noi forse meglio la ripresa complice anche la superiorità numerica ma mi era sembrato già dall'inizio di vedere un piglio diverso nei ragazzi poi c'è il grosso rammarico di non aver sfruttato così la superiorità numerica per così tanto tempo ma complice la tensione complice anche una condizione magari non ottimale perché in questo momento molti non stavano al cento per cento complice anche il fatto che a un minuto prima dell'inizio della partita abbiamo dovuto variare per un infortunio che era già stato palesato durante la settimana ma che stamattina sembrava essersi risolto quello di andreoni abbiamo dovuto per forza in modo rapido e veloce assestare la squadra cambiando e lì non è per magari non sarebbe successo ma noi in superiorità numerica con i terzini che spingono probabilmente avremmo avuto qualche chance in più non è detto con i sei con i ma non si fa la storia però era una qualità che c'è mancata con nonostante spanosi sia sacrificato la suiocolano e nonostante sia un grande giocatore abbia fatto delle grandissime giocate anche oggi ha cercato di ridurre un attimino quello che può essere il suo raggio d'azione e ripeto anche complice l'inferiorità numerica l'abbiamo arginato abbastanza bene nell'ultimo minuto dei tempi suprimentari avete rischiato l'euro gol e il gol della vittoria cosa ha pensato in quel momento ho pensato che bisogna cogliere l'attimo e se non si coglie l'attimo a volte poi si viene puniti giustamente ingiustamente poi si può discutere tutta la vita però credo che noi con la lotteria dei rigori abbiamo già durante l'anno dimostrato che non ci sapevamo a che fare perché adesso non so quanti rigori sono stati assegnati ma su 11 credo che ne abbiamo sbagliati almeno 7 per cui più uno in coppa italia abbiamo siamo riusciti a sbagliarne due in campionato nella stessa partita per cui non dico che fosse scritta speravo che la sorte potesse girare in questa lotteria dei rigori ma non è stato così vuol dire che chi ha avuto il merito di andare incontro alla dea bendata è il bassano per cui in bocca al lupo per la finale al bassano servirà molto questo però insomma avete fatto divertire anche oggi il pubblico avete fatto una grande partita questo insomma va dato merito a voi e al lavoro che avete fatto fino ad oggi sì noi come leggo anche per il bassano cioè i presupposti iniziali forse sarà ripetitivo forse l'ho già detto la settimana scorsa non erano quelli di fare un campionato partire con l'obiettivo di arrivare a fare un campionato così l'abbiamo fatto quindi gran merito e anche oggi è stata una partita sostanzialmente a viso aperto giocata fino in fondo da una parte dall'altra per cui oggi ha vinto il calcio ha vinto il bassano e in bocca al lupo di nuovo siamo con ruolo la partita insomma è finita i calci di rigore la classica lotteria come si dice in questi casi avete giocato molto bene avete forse dato un po troppo spazio al bassano quando eravate in superità numerica può essere questa la chiave della partita sì abbiamo abbiamo provato visto che la mia superità numerica ad attaccare un po più più evidentemente con più gente lasciando un po le ripartenze con dei giocatori importanti come il colano che comunque può fare la differenza anche con uno in meno noi abbiamo provato era era giusto così perché dovevamo provarci specialmente noi in più abbiamo fatto la nostra partita e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto non al bassano per questo passaggio del turno è una grande squadra e spero continui così avete giocato anche oggi di fronte a un pubblico strepitoso il vostro insomma i vostri tifosi escono a testa alta divertiti almeno peccato solo per il risultato sì sì sicuramente noi siamo siamo contenti di averli riportati allo stadio e aver fatto di noi innamorare tanta gente è stato bellissimo vedere tutta questa gente su questo staccamento e spero spero vivamente che loro possano proseguire su questa strada anche per l'anno prossimo e poi insomma per un giocatore come lei insomma davvero esperienza ai più giovani è sicuramente importante un campionato di grande livello c'è qualcosa che si dà male che oppure è soddisfatto di quello che ha fatto no dobbiamo sicuramente essere orgogliosi veramente di tutto quello che abbiamo fatto perché siamo partiti in sordina e siamo arrivati a giocarci la semifinale dei playoff siamo arrivati a un passo dalla dalla finale e nessuno ce l'aveva mai chiesto e noi l'abbiamo fatto non ho niente da dire solo voglio solo dire che ringrazio tutti quanti per aver fatto quello che hanno fatto quest'anno e l'anno prossimo vedremo cosa succederà già come cenete il bassano in finale una grande sofferenza siete rimasti anche in infidelità numerica ma avete dato tutto fino all'ultimo di schiardo anche di vincere insomma oggi più di così forse solo il gol poi ci poteva fare no oggi abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo una grande squadra un grande gruppo abbiamo sofferto fino alla fine non era facile un uomo in meno anche gli ultimi cinque minuti con maestrello che aveva un problema è rimasto in campo fino alla fine per darci una mano e abbiamo sofferto ma l'importante che abbiamo vinto siamo andati in finale quindi ancora più bello così avete fatto scatenare il pubblico del mercante che insomma ha capito la difficoltà di questo bassano parlo degli infortuni dell'infortunio di maestrello e dell'esposizione di Furlan ma in realtà voi avete dominato questa partita noi io penso che abbiamo fatto bene sia all'andata che al ritorno per quanto riguarda il pubblico penso che qui a bassano si è avvicinato tanta gente a noi ci fa piacere e speriamo che crescano sempre di più e speriamo di coronare questo sogno che è la serie b si parla della lotteria dei rigori questo bassano è la seconda volta che vince i rigori insomma almeno da questo punto di vista un po di fortuna c'è per i bassani sì sicuramente c'è un po di fortuna però adesso basta andare sui rigori perché altrimenti qualcuno ci lascia ci lascia le penne e niente siamo stati fortunati sì però grande ha dimostrato di essere un pari a rigori e adesso abbiamo la finale non vediamo l'ora che arrivi domenica e siamo carichi più che mai finale che giocherete contro la squadra del vostro girone il como una squadra che conoscete bene che partita sarà domenica e domenica sarà una partita dura loro hanno dimostrato di che sono in un periodo di gran forma e quindi andiamo lì consapevoli che non sarà facile ma noi siamo il bassano e vogliamo continuare a stupire e quindi andremo lì a giocarci la partita come abbiamo sempre fatto peccato solo per l'assenza e per domenica prossimo si mancherà pietri basi full line speriamo di recuperare tommy ma nel caso c'è c'è pronto spadafora che comunque un giovane importante e anche con l'ingresso di casarini abbiamo dimostrato che siamo un gruppo eccezionale anche chi gioca di meno entra e fa bene quindi non siamo per niente preoccupati dell'assenza e siamo in 21 squadra e quindi ci saranno giocatori che sostituiranno gli assenti hai parlato del como che è in ottima forma fisica ma anche questo bassano ha dimostrato di essere in forma fisica anche oggi fino al cento ventesimo avete corso fino all'ultimo significa che state bene fisicamente sì sì siamo siamo bene ma poi queste partite qui dai tutto perché sono le ultime partite quindi magari tiri fuori della forza che che ce l'hai dentro e siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e quindi ripeto non vediamo l'ora che arrivi domenica un'ultima battuta su questo pubblico che è stato eccezionale anche oggi insomma è il dodicesimo uomo in campo no no adesso si può dire che abbiamo il dodicesimo uomo in campo si sono avvicinati come detto prima in tanti e c'è stato un boato alla fine credo che sia qualcosa spero che si ripeta anche la prossima partita in casa a noi ci fa piacere e diciamo che siamo riusciti a svegliare la città di bassano e quindi siamo ancora più orgogliosi dare torinelli la vittoria del bassano passa anche per il tuo calcio di rigore è un gol insomma che non vale per i tabellini ma vale moltissimo per questa partita se diciamo che finalmente ho gonfiato la rete per la prima volta anche se non conta però conta tantissimo per quanto riguarda il risultato finale alla fine hai giocato una partita strepitosa contro un attacco formato da tre grandissimi giocatori insomma questo è il dato significativo di questa difesa bassanese si l'avevamo preparata bene se l'andata che oggi quindi diciamo che anche grazie alle accortezze tattiche che ci aveva dato il mister siamo riusciti a limitarli in tutto quello che facevano anticipavamo quello che loro volevano fare quindi siamo riusciti a cavarcelo in più avete giocato in 10 contro 11 per una ventina di minuti dimostrando che potete mettere in difficoltà anche in infinità numerica gli avversari questa è una cosa eccezionale se ci abbiamo messo molta più voglia cioè sapevamo che comunque era una situazione difficile quindi dovevamo lottare correre più di prima per risolvere questa questo deficit che avevamo e per un po ci siamo riusciti adesso da qui alla serie b ci sono 180 minuti adesso ci si gioca tutto sì però pensiamo prima la partita dall'andata e poi penseremo all'altra antonino astra il bassano raggiunge questa finalissima lo fa in modo spregiudicato una bellissima partita siete rimasti in 10 avete attaccato fino alla fine insomma cosa si poteva chiedere di più oggi no io ho detto prima sono veramente orgoglioso di essere allenatore di di questo gruppo di questa squadra indipendentemente da tutti è proprio tutta la rosa perché oggi per esempio ha giocato per 40 minuti super giù un ragazzo che aveva giocato pochissimo che è Casarini ecco cito lui per per dare veramente forza a questo gruppo quindi io sono solo orgoglioso non so più neanche cosa dire anche ai ragazzi perché quando dai tutto quando veramente anche nei momenti di difficoltà vedevo ragazzi che arrancavano ma non mollavano e come fai a non essere contento di aver di avere un gruppo del genere quindi sono soddisfatto ma soprattutto è un qualcosa dove si merita perché questi ragazzi dall'inizio stagione ma già dall'anno scorso hanno fatto qualcosa di fantastico inizio stagione a non mollare mai essere sempre lì quindi non è facile e quindi adesso ci godremo questa finale e cercheremo è logico che non vogliamo e non dobbiamo dirla quella parola lì però adesso è l'ultimo gradino ultimi due gradini sono due gare non c'è oltre non c'è più nulla e quindi vogliamo veramente essere protagonisti fino alla fine avete dimostrato di meritare anche in 10 contro 11 peccato perché domenica mancheranno furlano pietre biasa sicuramente maestello ha avuto un problema come sta maestello lo si valuterà martedì non so se è una distorsione al ginocchio anche il medico ha detto vediamo un po sembrava una cosa grave inizialmente poi invece insomma si è rimesso in campo zuppicando un po perciò quindi se si rialza e comincia a correre con le sue gambe quindi speriamo che non sia nulla di grave ma ci sta che in queste partite qui purtroppo qualcuno lo perdi per strada per quanto riguarda le munizioni e tutto perché purtroppo capita capita perché sai che con due munizioni però ci sono gli altri primo ho citato casarini è entrato zanella è entrato bene quindi ci saranno gli altri poi in questo momento qui quando si tratta di queste partite soprattutto le finali conta poco tra virgolette conta la voglia determinazione il cuore questi ragazzi ce l'hanno veramente grosso grosso e cerchiamo di andare avanti lo stesso e poi nominiamo anche grandi che anche oggi ha fatto interventi impossibili tra rigori parati insomma questo ragazzo sta dimostrando di valere la maglia da titolare ma io l'ho detto prima i tuoi colleghi forse ho sbagliato io dall'inizio dell'anno non tra virgoletta non considerarlo no questa è una battuta perché non voglio dimenticare già maria rossi che ha fatto un campionato straordinario ma io l'ho sempre detto di avere due portieri pro i due portieri titolari non sono allenatore che mi piace cambiare spesso e quindi insomma lui ne ha ne ha un po pagato però l'ho sempre tenuto in considerazione sono contento si sta prendendo tutte queste belle soddisfazioni e lo merita anche grazie a lui che siamo arrivati in finale però ecco tu hai citato questi giocatori qui però veramente come ho detto prima io non posso non non partire dalla dalla rosa dei ragazzi che chi va spesso in tribuna chi magari gioca meno e tutti perché per esempio cenetti le ultime partite non le ha giocate oggi di nuovo è stato un gladiatore lo sappiamo però è quando la fortuna di avere questi ragazzi qua che sono a disposizione tua ma per il per il bene della squadra e non pensano a loro perché ho sempre detto che prima viene la squadra e parlare sempre noi ma io e questi ragazzi qua l'hanno dimostrato per l'ennesima volta ci sono stati un po di episodi dubbi che un certo punto hanno fatto pensare al peggio anche la tua espulsione tra le altre cose insomma avete pensato in quel momento qualcosa di particolare no guarda la mia espulsione mi auguro spero che insomma non è successo nulla sono stato solo allontanato perché insomma se pensiamo che furlana è stato munito per simulazione cinque minuti dopo una azione identica uguale fallo non l'ha munito quindi è normale però credo nell'andamento della gara sì qualche circostanza però questi ragazzi qui sono più forte di tutto e di tutti e quindi è ancor più bello te la godi ancora di più e adesso dai godiamoci questo momento qui e da domani penseremo già a Como Ecco